Il prossimo pezzo si chiama Ring to Trimberg e parla di trovarsi, di cercare di trovarsi in situazioni come queste, situazioni dove tutti o quantomeno le persone qui davanti hanno un sorriso sulla faccia, noi abbiamo un sorriso, nonostante siamo molto depressi e la vita non merda. E tu Trimberg parla di andare verso il posto che si fa stare bene, verso Croydberg non potrebbe essere anche verso la sua sopra. Il prossimo pezzo 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 Il prossimo pezzo